salve caro iperione salve caro amico mio iperione e salve care amiche e cari amici miei di youtube io tempo fa un mese circa fa ho fatto un video parlando di quello che ho ascoltato nella tua live caro amico iperione cioè che matteo montesi dopo l'ennesimo bucaggio ha mandato a fuoco un vecchio rudere una cascina e nel tuo ultimo live che mi sembra che ho visto ieri che mi sembra che ho visto ieri tu mi hai chiesto giustamente perché non ti ho menzionato io in quel live dicevo che ho partecipato alla live di un mio carissimo amico nella quale sono venuto a conoscenza sono venuto a conoscenza di questo gran episodio che hanno spento un incendio in una casa abbandonata in dieci ore e che stava coinvolto di nuovo il nostro caro matteo montesi io non ti ho menzionato in quel live che avevo fatto perché pensavo di dover essere discreto non perché volevo mettere le fonti e quindi in questo video rettifico io ho saputo ho appresso della notizia dal live del nostro caro amico iperione adesso se faccio questo video e per sapere che fine ha fatto matteo montesi perché mi hanno mandato molti messaggi in privato dicendomi i soliti di complottare i complottisti che forse veramente lo avevano rapito forse alienigene che dietro c'erano i rothschild i bilderberger i massoni che dietro c'era il sequestro dell'anonima anonima sequestri forse qualche mafia drangheta camorra sacra corona unita i gesuiti gli ufo oppure che veramente sono stati adepti a curi demoniaci io non credo nulla di tutto questo come non credo neanche che se sia ingoiato la terra scusate il temore del video ma io prima ho fatto una una live e c'ho stanco il braccio cambio di braccio e invece io credo che il nostro matteo montesi sia scomparso e non so per quale ragione è scomparso di come di automaticamente è uscito fuori dalla circolazione non si fa più vedere e questo stanno perché già da prima che successe quello che successe lui iniziò a caricare a fare di nuovo spam dei suoi video perché gli hanno cancellato molti canali perché lui caricava dei video li toglierono e gli ricontinuava caricare quindi a tutte le persone che mi scrivono in privato mi scrivono in diretto messaggi in instagram in facebook io domando loro ma che fine ha fatto matteo montesi perché si è elevato dalla circolazione che starà facendo adesso sappiamo che un'altra persona gli sta caricando e video nel suo canale ma veramente lui che progetti avrà per il futuro che farà nel futuro in un prossimo futuro venturo veramente che sarà di lui che sarà che sarà della mia vita chi lo sa e quindi tutti stiamo milico in sospesso io ogni tanto commento i video che escono sul suo canale orgullosamente non so come si chiama perché a volte sono graziosi comunque credo che matteo montesi abbia esagerato è calato troppo nel personaggio si è fatto assorbire nel personaggio vediamo i futuri sviluppi di quello che gli succederà allora vi saluta il vostro sentenzione commentate qui sotto e condividiate questo video anche altri possano commentarlo bye bye